Ciao amici, ciao amiche, finalmente eccoci alla rubrica rispondendo alle vostre domande audio. A me dispiaceva tantissimo non rispondere alle vostre domande audio, per questo io ho creato questo gruppo dal titolo Solo per domande audio. Ecco ve lo faccio vedere, qui ci sono soltanto delle domande audio che mi fate, non ci sono foto, testi, domande scritte, dialoghi scritti, non c'è assolutamente niente. Come vedete, questo è come appare a me ovviamente, quindi voi non vi preoccupate se qualcuno scrive qualcosa, se qualcuno mette qualche foto o dice qualche scemenza, perché io tanto, io mi tengo soltanto le domande, le domande, quelle che sarebbero le domande audio. Quindi se voi volete le risposte mettete solo domande audio, qualunque cosa mettete che non è una domanda, che non è un audio, io lo ignoro completamente, perché questo serve proprio per darvi la possibilità di farmi le domande audio. Ok, allora guardiamo un attimo qui, guardate qui c'è tutto pulito, ci sono soltanto le vostre meravigliosissime domande audio. Ok, quindi possiamo cominciare a rispondere a queste domande e vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, mi scuso per non aver risposto le domande audio prima, ma adesso abbiamo questo sistemino che ci aiuterà tantissimo. Ah, una parentesi, se entrasse qualche troll, come è successo anche oggi, io ho messo quattro amministratori in grado di buttarli fuori immediatamente, no, perché ho visto gente che dice, ah allora è arrivato, insomma non vi lasciate bloccare da una cosa così, perché altrimenti, altro che salvare il mondo, altrimenti non siamo superisti, altrimenti siamo super fessi, il superista è anche uno che ha un minimo di consapevolezza, di buon senso, però vi preoccupate, questi troll non entreranno più e se entreranno li buttiamo fuori immediatamente, se per caso entrassero, che io sto lavorando, sono distratto, l'altro amministratore è distratto, che potranno fare mai, potranno mettere qualche figurina, qualche frase in giapponese, ma che ce ne frega a noi, scusate. Poi guardate come è pulita la mia schermata e per questo io vi posso rispondere a tutto, quindi adesso veramente andiamo avanti, ok?